Ciao a tutti, adesso andiamo a fare l'unboxing di un'altra cover, arrivata sempre adesso. Decreazione del venditore, sempre regalo, gift, peso 0,05, USD 2, 2 dollari, valore. Come accessorio, ancora ci sono i miei dati, codice di tracciamento, ok, andiamo da prima. Ciao a tutti, il video è finito, se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale, ciao ciao.